Siamo al Carpitali, edizione 2018, febbraio 2018, tra l'altro la ventesima edizione del Carpitali. Quindi un compleanno molto importante per questa manifestazione feristica che si conferma ancora un punto nevralgico nel mondo del carficio italiano. Siamo allo stand ReMarin, sono Emiliano Gabrielli perché non mi conoscesse, testimonia l'ambassador di questa azienda, leader dell'elettronica di bordo, che si pone al servizio pesca sportiva. Per quanto riguarda il 2018 ReMarin, il catalogo di quest'anno, troviamo ancora il Dragonfly, il notissimo strumento che ha rivoluzionato già da qualche anno il mondo della pesca, legato all'entry level. E troviamo ormai solo la versione Pro, quindi che ha integrati due canali CIRP, down vision e a più alte frequenze, silent vision, praticamente una ricostruzione fotografica del fondo. Ma in tutti, in tutti i Dragonfly Pro, troviamo anche integrato GPS cartografico. Come accennato prima, ovviamente stiamo parlando di un entry level, quindi non è un multifunzione come può essere il nuovo Axiom. Ma bensì è uno strumento che è comunque completo, destinato alle piccole e medie imbarcazioni, sia in mare che in acqua interna, in realtà come il catfish, i carfish, il spinning e quant'altro. Quindi sicuramente è uno strumento che soddisferà appieno le persone che per la prima volta si stanno avvicinando al mondo della frumentazione di bordo. Ragazzi, quindi abbiamo visto un prodotto particolarmente indicato a chi inizia, quindi un entry level, molto performante, destinato a piccole e medie imbarcazioni, quindi un prodotto che sicuramente vale la pena conoscere. Ovviamente Remarine anche molto di più, i nostri display multifunzione, radar, termocamere, videocamere, quindi vi invito a conoscere tutta la nostra linea a prodotti e rimarrete sicuramente soddisfatti. Grazie